Buonasera, ho un potere pelato dentro di me e sono tutto scoordinato però No, c'è qualcosa che non va nella... è che la telecamera è troppo centrale oggi, devo spostarla Devo anche spegnere l'audio di questo Ho anche il tast... ho anche la tastiera sbagliata in effetti, scusate Meglio Buonasera a tutti, potere pelato, fatemi mettere a posto che non mi piace niente in questo momento Intanto, facciamo le cose importanti, buonasera, mandiamo un messaggio a chi per caso magari aspetta la notifica Io credo che nessuno guardi queste notifiche, però potrei sbagliarmi Allora, facciamo così Un pacone, fumettone Su twitch.tv slash pelati e fumetti Ok Va bene Buonasera, buonasera Eh, ora non lo devo mettere a posto proprio Le variant costano troppo, chiede Domenico, chi lo sa Ecco, così mi piace di più Ho anche delle tovagliette Variant manga costano troppo, aiuto Giusto Ah beh, sei collegato allo stesso Silvio Ninja, anche se non l'ho mandato Ah, se non ti ricordi però Scusate, non avevo messo via le tovagliette di Drago Nero Drago Nero, Conan Molti hanno visto questo video, sono contento che non l'abbia guardato nessuno Tra l'altro qualcuno mi ha accusato che Ah, non ha detto un cazzo Cioè, nel senso Voi pensate il bello di essere una persona che A qualcuno fa Uno scrive un complimento sotto un video Cioè, uno ha scritto un complimento sotto il video E lui gli ha commentato Che cozzo dici? Non capisce un cazzo? Ha fatto solo un flex E poi hai detto due parole Sì, l'idea era quella Vanno di più quelli Marvel Sì, ma c'è un problema Allora Il grosso problema con questo tipo di video È che Essendo video che parlano una nicchia All'interno di una nicchia Cioè Un video su un particolare fumetto Non lo guardano tutti Lo guardano le persone interessate in generale al mondo del fumetto Che sono poche La maggior parte guarda soltanto il video Che gli interessa E quindi purtroppo funziona così Però a me fa piacere cercare di Buttare delle perle ai porci Se becco qualcuno che non avrei beccato comunque è meglio Se no pazienza Che ci volete fa? Che ci volete fa? Comunque Buonasera a tutti E Devo mettere un video online In realtà Su Cantina Pelata E mi sono scordato Ma non fa Ma se non fai niente Non becchi niente Giusto? Ciao Pablito 384 da stamattina È un po' una merda Comunque Niente Dragonero Conan Puzza di paccone omnibus Sai che non credo? Ci tumbe sopra però Più che altro Io corro a vedere i video di cose che non ho ancora letto Se ho già letto aspetto Buon momento più Oddio Ci sta Ci sta Allora Dovrei Volevo solo vedere Perché poi se no mi dimentico Almeno me lo apro Almeno sta lì Che video posso fare uscire oggi? Cantina Pelata Appena finisco la live Vediamo Abbiamo Boh Ho visto il ragazzo e l'airone Beh 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 Ma c'è anche la copertina di questo Perché non è pubblico? Questo posso pubblicarlo immediatamente Ho già messo anche la copertina Vabbè Perché non è pubblico? Sono confuso Me lo sono dimenticato probabilmente Ottimo E buttiamo fuori questo allora Aspettate Fatemelo fare direttamente Tanto avevo già fatto È una copertina orribile Però almeno c'è Fatemi solo vedere se ho messo le pubblicità Così poi torno da voi Allora Monetizzazione Pacco di omnibus No non sono Cioè raga Non è un pacco di omnibus È un pacco di robe Bello pesante È il pacco di Bartolini Sì sì è lui È arrivato ieri Era qua anche ieri Se l'avete visto Poi non l'ho aperto Perché non era L'idea non era di aprirlo Ma Oggi lo apriamo E No Pubblicità le ho messe Tutto a posto Va bene Allora lo pubblico Perfetto Se avessi visto che c'era Lo pubblicavo già Non aspettavo Oggi è martedì Giusto? Sì Pubblico Salva E vive Ok Va bene Oh Che bello Che bello Il video di ieri È andato 83 views Cosa ho fatto Però Minchia Sarà bene Cantina pelata E Va bene Va bene Va bene In realtà c'è un solo video Che va forte Su Cantina pelata Ed è il video Tutti i must have Parte 2 Che però Essendo una live di merda Non è proprio il massimo Dovrei farci il video L'altra volta Avevo tagliato il video Però dovrei proprio fare Un paio di video Su tutti i must have Fatto bene Strutturato Che è un po' più facile Da seguire Un pochino più sensato Da seguire Probabilmente Avrebbe il suo senso Credo No? Che dite? Io ti ho conosciuto Con quel video Grande Facco di Om Perché Cioè per essere un video Di cantina pelata Ha fatto No questo è il terremoto Lo speciale Omnibus Ha fatto 4000 views Ma pensa E Quello dei must have Ha fatto Uno 2008 E uno 1600 Che per Per cantina pelata È tanto Va bene Sappiamo che video fare No In realtà Me ne avevo scordato Ma in realtà Io voglio farlo Un video fatto bene Sugli Omnibus Marvel Panini Però Più di un video Probabilmente Però oggi dovremmo fare Una live In cui vediamo Tutti gli Omnibus Facciamo proprio una scheda Lo facciamo in live Almeno È un po' più Intrattenimento Se non mi faccio due maroli Eh ma quelle sono complicate Spiro Però sì Ci starebbe Però è difficile farle Poi faccio il video E mi dicono Eh ma hai fatto solo Flex Vedere cose Poi hai dato solo Un commentino Però Quello andrebbe fatto Sugli Omnibus Anche per capire Cosa c'è di disponibile E cosa no Perché in realtà Di Omnibus Ne abbiamo fatti tanti Cioè hanno fatto Tantissimi Omnibus Tanti però Non sono più disponibili Sarebbe anche bello Avere proprio una scheda Con tutti gli Omnibus Per cui proprio Faccio il file Si segnala La disponibilità Sarebbe figo E utile Sì E anche un minimo Di commento Poi non è che Li conosco tutti A memoria Ovviamente Perché non è che Li ho letti tutti Però Se mostri le lezioni Planeta Non stai flexando Nulla È un dissing A Planeta Vabbè Non si possono offendere Credo Dovremmo mettere Anche un nuovo obiettivo E dobbiamo anche fare La live Grumpla Vediamo Poi Si inserisce la scaletta Un giorno a settimana Che ci vediamo Un po' più Omnibus In base a quanto Tempo ti prendono No ma non è quello Che voglio fare Non voglio vedere Gli Omnibus fisici Non li ho tutti Ho solo questi Non sono tutti Neanche un po' Voglio vedere Voglio fare una lista Andando dal sito E da Comicsbox Controllare la lista Degli Omnibus Confrontarla Col sito Panini Capire quali sono disponibili E quali no Quanto costano Cosa c'è all'interno Se vale la pena Non recuperarseli Cosa c'è magari Di fondamentale Che non è più disponibile E da lì si può fare Tutto Una bella roba Marvellosa Importante Tanto anche perché Di stare da qua Non ne parla nessuno Cioè io Mi piacerebbe parlare Di mangi Ma parlare di mangi Tanto lo fanno tutti Poi considerando Le domande medie Che ti fanno I fan dei manga Comunque salutiamo Gli amici stranieri Arrestati in Giappone Però questa cosa La devi fare Con un Dario Come ospite Moccia O Dario Cosa Anche se dici Quali possono essere Dati per novizi Come me Nessuno Nessuno Alle 87 Allora Alle 87 RNN Queste sono le regole Base del fumetto Americano Seriale Qualsiasi omnibus È adatto A un novizio Ma nessun omnibus È ideale Per un novizio Perché è stupido Iniziare a leggere Fumetti seriali Partendo da dei volumi Grandi così Cioè Questa è roba Da collezione Punto Secondo me Per persone Che già li conoscono Cioè tu conosci Magari non è che Devi aver letto Ovviamente tutti gli omnibus Però tu segui Gli X-Men Da dieci anni Da cinque anni Da due anni E dici Cazzo Mi piacciono Gli X-Men Andiamoci a leggere Le storie classiche Di una volta E a lei Ha senso Comparsi gli omnibus Secondo me L'idea di uno Che parte Dal No no ma non mi sto Arrabbiando Mi sto arrabbiando Non mi sto arrabbiando Mi sto arrabbiando Sto spiegando Allora non lo spiego Dico Ok non dico più niente Dico più niente Fate voi Sì Alle 87RN Ti dirò Il fumetto Che devi comprare Per essere Per capire il film Ne manco parlare Posso Adesso sì Mi state sempre A fare Gne 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 Ma è insensato O Gemini Cioè È comodo Allora è comodo Per recuperare Perché ovviamente Ti compri un singolo volume Ma io lo ribadisco È stupido Comprare un volume Da 100 euro Se non conosci Quei personaggi E non solo Ma è rischioso Perché magari Di quei personaggi Non ti frega niente Ti sei Comprato Un volume gigante Di storie vecchie Poi Boh Poi sicuramente Ci sono gli omnibus Sono specifici Un po' più particolari Cioè nel senso Se uno è un fan Di Morrison Ha senso consigliargli I new x-men Di Morrison Perché tanto Cosa dici Ti recuperi I sei volumetti Brossurati singoli Sette Sette insomma Mi pare Tanto vale Che ti compri L'omnibus Però se non hai mai letto Gli x-men Boh Oddio Sì vabbè È Morrison Però Se non hai mai letto Voglio leggere un foglio Però è un bel omnibus 100 euro Così Ho visto il post di Kalel Su Instagram Dove praticamente Incentivare la pirateria Ma saranno addirittura Il sito pirata E vabbè È un coglione Cosa bisogna dire Di cosa Andiamo a vedere Kalel Dai Così dai Gli scrivo Non ho mai il tigatto Con Kalel Kalelit Bella questa foto Col doppio mento Insieme a Matt Smith Anche a me viene Se faccio Vabbè Ehm No Ale Ma è stupido Ribadisco Non è un Un consiglio Intelligente Cioè Se io voglio farti appassionare A una serie tv Non ti consiglio Di comprarti l'intera serie In In un cofanetto Ti consiglio Magari Guarda il cofanetto Guarda il film Da un'altra parte Cioè Guardati la serie Su Netflix Guarda Non ti consiglio Comprati L'intero cofanetto Da 160 euro Però Ma Quale sarebbe Il post Mio amichevole 91 albi Di quartiere Vedo soltanto Le sue facce C'è lui Con degli attori Che fa faccine Mi sembrano anche Post vecchi Non sono nemmeno Puzzati Quindi Ma quindi Lui scherza Sul fatto di non essere In forma E quindi fa Apposta le foto Brutte Kalel Perché questa qua È volutamente Fatta brutta In un posto brutto Con una maglietta Che gli sta male Ed è anche lì così Strano Strani personaggi Del web Questa foto qua È di 60 anni fa Il primo Non Ma non sono Pinnato Chi è la cosa del Pinn? Non c'è 21 ottobre 2022 È Pinnato Ma perché Non mi appare Il simbolo? Non dovrebbe Essere il c Simbolino? Pure Instagram Si è rincoglionito Perfetto Dimmi qual è Il primo Non Pinnato Perché non c'è Scrive Non c'è Segnato Io che cazzo Ne so Su Instagram Me lo fa vedere Quale non è Pinnato E infatti Su Instagram C'è il simbolo Qua non c'è Cioè sul telefono Me lo fa vedere Il simbolino Cioè guardate Ma stavate vedendo Che cosa Cioè E qui me lo fa vedere Il simbolo Del Pinnato Qua no E io come cazzo Faccio a saperlo Cioè Se qua non me lo fa Se lo metta Io me lo sogno Quale è Pinnato E quale no Quando il singolo servizio Se mi continua Ad alzare i prezzi La pubblicità E limitare Di schermi Eh ma sarà Una cosa ridicola No bene No bene Instagram ha dei leggerissimi bug In questa settimana in realtà Io ho tutti i colleghi Io ho tutti i colleghi Che mi mandano immagini Del fatto che gli stanno segnalando Post a caso Anche a me hanno segnalato Un post Come nudità Aspettate Vediamo se è ancora segnalato O se l'hanno risolto È proprio bugato Instagram Non so che cazzo Hanno fatto Ma non sta funzionando Nullo Nulla Cioè c'è Lucille Che mi fa vedere Dungeon Food Bello No si va da qua Poi devo andare Impostazioni privacy Poi devo andare Che palle Poi devo andare In stato Dell'account Sì Guardate Guardate questo post Quello su Crucisix Crucisix È un post Che Ah ok L'hanno controllato Non viene più mostrato In basso Noi feed Grazie 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 Instagram Non è più Eh ma magari Perché avete Il verificato Hanno dei controlli Più intelligenti Non lo so Impotizzo Un po' Ma un sacco Un sacco di gente Ma a me è solo uno Ma gente che aveva 12-13 post Segnalati come Pornografia Ma post tipo Non so Su FIFA O AirSport Sì no ma infatti È proprio una roba Comunque no È terribile È imbarazzante È imbarazzante Ma è imbarazzante Perché ragazzi Io vorrei che la gente Se lo ricordasse Le piattaforme di streaming Sono aziende Comunque C'è Ma nessuno Ma nessuno gliel'ha fatto notare Sì purtroppo è così Ti costringono a utilizzare Siti streaming E io E io sì che lo faccio Col people all'insalata Se spendo 18 euro Di abbonamento al mese Per vedere due tre serie Che mi interessano Ma poi 18 euro dove Glielo scrivo Glielo posso scrivere Glielo posso scrivere Se spero che ti continuino A invitare alle piraterie Dopo queste Alle anteprime stampa Dopo questa O forse Posso rispondergli Poi non ti lamentare Se non ti invitano Alle fiere O agli eventi Ah nelle storie Dice che scherzava È una battutona Infatti ha fatto vedere Il sito web E vedi ma La fortuna è che Fortunatamente Probabilmente Gran parte di quelli Che corroborano con lui Boh Oh Il mio orologio Si sta disintegrando Che palle Devo comprare i cinturini O trovare quello Doppio che avevo Che non so che fine ha fatto Bello quando vi inalberate Tutti quando nel post Ci sono tipo 20 tag con meme Nel post Ci sono 20 tag con meme Ah ok Aspetta Drupi Aspetta Sei una testa di cazzo È un meme Eh no Non funziona Vedi O anche Ehi Sai dove puoi trovare Gratis Non lo so Le foto intime Di quest'attrice Qui Su questo sito Ah è un meme Non si fa Porno Boh Ah se vuoi scherzare Lo puoi fare Lo puoi fare Intanto non fai vedere Il sito Che già è una buona idea Poi nel Eh fallo vedere PicPak Così ci si diverte un po' Eh No non era l'insulto a te Era Vedi che ti sei offeso Ti ha dato fastidio Ma io stavo scherzando Era un meme Non puoi Se hai un ruolo pubblico E Lui ha un ruolo pubblico Perché non è Il tuo amico al bar Che fa una battuta Ha un ruolo Al pubblico E facendo questa cosa Tu puoi anche scrivere Meme italiani Meme Italia Meme Ita Meme Meme Sita Meme Sita È tipo Mamma Sita Ma meme Wow Però intanto il sito L'hai fatto vedere E nei commenti Sotto il tuo Ci sono gli altri Che si spammano I siti Dove Scambiare Dove Dove scaricare Episodi gratis O guardare Roba in streaming Illegale Ha funzionato Proprio bene E la gente Non gli sta dicendo Ha ha Che ridere La gente sta dicendo Sì hai ragione Io faccio proprio così Dovremmo ricominciare A farlo tutti Forse non è Il massimo Dell'eleganza Voi che dite? Uno poi potrebbe andare Su anime click E vedere i commenti All'ultimo post Che hanno fatto Non lo so Che commenti Se hanno fatto Dei commenti Questo E Io gli ho commentato Penso che sarebbe carino Se le case editrici italiane Avessero il coraggio Di prendere posizione Ogni tanto Però Piccacca almeno Il like No non era Piccacca Era pittasacca Ok Si vede che c'è un problema Di fondo Con i systemings La gente si lamenta Sì La gente si lamenta Perché vuole tutto gratis È lo stesso discorso Con Anime click Con la pirateria Nei manga Perché la gente Scarica i manga Perché costano troppo No perché non vuole pagarli Punto E perché Se glieli può portare qualcuno Tradotto in italiano Gratis Senza nessun lavoro Di qualcun altro E senza Doverli appunto comprare È molto meglio Perché non sono nemmeno In grado di leggerseli Originali Su Manga Plus Perché nessuno ti dice Di non leggerli su Manga Plus Dov'è legale Non ha commentato nessuno Questo post Tra l'altro Beh ma Ragazzi Io ribadisco Io Netflix L'ho sempre pagata Tutto L'ho pagata sempre Da solo So che sembra incredibile Ma l'ho sempre pagata Da solo Netflix Quando Netflix Ha detto Ehi ragazzi Forse è il caso Che la piantate Però Di fare In quattro Un account Perché Eh Cattivoni Cioè E poi raga Ribadisco È vero Che Il problema qual è Una volta c'era solo Netflix Adesso ce ne sono tante E uno non può farle tutte Eh ma è giusto Che non le faccia tutte Fate un po' di scelte E io cosa faccio Un giorno Ne ho una Un giorno Ne ho un'altra Un altro giorno Ne ho un'altra Ancora Sai cosa mi dà fastidio Di Amazon Pickpack Il Il player Che è ibrido Nel senso che Ti sbatte dentro In mezzo a tutto Anche la roba A pagamento E questa cosa qua È veramente fastidiosa Perché io ci impiego Un'ora e mezza A capire cosa guardare Su Prime Perché Sì è vero Che c'è il coso Prime Video Però non è Comodissimo Eh lo so Immagino È proprio una roba Stupida Perché loro hanno Faticamente Un'idea Hanno un po' Importato su Prime Video L'idea di Amazon Sono veramente Dei coglioni Ma Non mi permette Di vedere Su due account E sono comunque Sempre io Ma in due appartamenti Diversi Ma in che senso Scusami Se hai due appartamenti Diversi E non li usi Contemporaneamente Come se ne accorgono Dall'IP Mi sembra strano Devo sempre Identicare Tramite messaggio Eh Ma chiediti perché Ma non si possono Salvare Sì ho capito Ma non si possono Salvare i dispositivi Scusa In qualche modo Cioè tipo Se ce l'hai sul telefono Cosa succede Però Oh il problema È che lo fanno Perché evidentemente La gente non si fa controllare Eh Sì non mi pare Un grosso Poi è un po' La rotola di palle Lo è probabilmente Però Potrebbero fare Un Potrebbero fare Un qualche sistema Un po' più comodo Questo sì Però d'altronde Se la gente frega Eh Ma io Non lo sospendo Io blocco E riattivo Su un alt Quando ho voglia Adesso mi sta scadendo Disney Plus Probabilmente farò Netflix e guarderò Un po' Cosa c'è su Netflix E poi Boh Tornerò a quello Oppure faccio Crunchyroll Non lo so Vediamo Tanto di Disney Adesso che non ci sia Niente che mi interessi D'altronde Se tutti la fottono Netflix risponde Scrivigli Chi vuoi l'abbonamento Questo mese Per qualche review A chi PicPak A Netflix Netflix Voglio l'abbonamento O a Prime A Prime ce l'ho Ce l'ho sempre Comunque Sì ma non ho fretta Di vedere la terza Di Bad Batch 91 Albi Cioè sinceramente Me ne frega Molto relativamente Forse non ho visto Neanche la seconda Non mi ricordo Comunque Che ora è Mi serve un taglierino Credo Aspettate Un taglierino No è Era qua Giustamente era qua Finalmente smetto Di mangiare Le merendine Dell'ansia Grazie Grazie Pippo Per la sub Grazie Grazie 16 mesi Evviva E' falso C'è del cartone Dentro Non è un vero Pacco Vedete è tutta roba finta È solo spazzatura Ancora una volta Truffato da Geekoshop È passato allo scotch Di tela È difficile Molto Facciamo così Facciamo una Non so come fare Facciamo un'altra cosa Aspettate Cambiamo impostazione Andatemi un secondo Andatemi un secondo Arrivo eh Allora lo metto Sulla sedia Ok Ho tirato giù il modem Perché c'è il cavo C'è il cavo Che da qua arriva Fino là in fondo C'è il modem E l'ho tirato giù Però sono ancora collegato Evviva Avrà presa qualche manga sconcio Ovvio No è che sto cercando di capire Come aprirlo Senza farvi vedere tutto Perché è difficile Ecco Forse ce l'ho fatta Complicatissimo No ma non è Caluto per terra È che Caluto dietro la tv Allora Casino Iniziamo con un volumino Eeeh Un libricinino Si e si si Quelli I transformers Da quando mettono la plastica Attorno ai Cazzo stavo per strappare La copertina Ma come odio la plastica moderna Che non si apre C'è Che poi è pure molle Per cui non è neanche Facile da guantare Ah qua adesso si apre Però è proprio Ora immagina i transformer Sconci Ma nel senso che Sono sconci Normalmente O si trasformano in cose sconce Tipo dildi No neanche io Non l'ho mai visto Ce li ho fanati Però Si vede di sì Non lo so Magari Gli mandano Magari Adesso spengo la live Schiacciando il tasto Cyberytooth Vediamo il poster Beh intanto Devo dire che anche senza poster È proprio figo Vediamo il poster Bel posterino C'è qualcosa che non va Ah no ok Perché devo Ok Complicatissimo 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 Sì sì è Teixeira Questo è il Cyberytooth Di Lenriama E Mark Teixeira Che come storia Non mi ricordo Sinceramente Se è bella o meno Però visivamente L'ho risfogliata L'altro giorno In spillato E mamma mia Cioè È una di quelle robe Super di impatto Super anni 90 Ma Proprio figo È un signor Gran bel volumotto Devo dire Sono proprio contento Condendo Sabrytooth Anche le copertine Allora La copertina di Sabrytooth Era composta da due cover Alla sopra la coperta Aveva dei buchi Nelle due O Del logo Nei quali Si intravedeva Un'immagine sottostante Nella seconda doppia copertina Si poteva mirare Queste illustrazioni Di Mark Teixeira Ok E quella sopra invece Però potevate metterci Anche quella sopra Ah ok Era così Strano Ficco Poi abbiamo un po' Travis Charest Ai tempi Michael Golden Vabbè questa è Di quale mi hanno fatto Il poster Certo Non ho capito Perché non hanno fatto Scusate Perché non hanno fatto Un poster Usavano una di Teixeira Invece di Di Michael Bayer Però fa niente Vabbè Ah ma è sempre stato Uno scrittore Molto Particolare Cioè Non un genio Però scriveva le sue cose bene Secondo me ci stava Ora non so dove metterlo Però Qui non ci sta Eh Lo metto sotto il pacco No aspettate Lo metto qua Il costo del volume Mi ricordo Costa 25 25 25 25 74 75 Lo si è un po' Ammaccato Mi si è un po' Ammaccato Questo Mattia Dov'è Mattia Dov'è Mattia Dov'è Mattia Mattia Ma era già così Era già così Non c'è È uscito Ma secondo me Era già così Però perché scusa Non può essere Come ha fatto Era in mezzo Ai fumetti Questo Era proprio in mezzo Ah no In effetti No Mi sa che c'è stato Proprio un problema Eh sì Mi sa che Mattia Mi sa che devi scappare Perché il prossimo È peggio Eh no 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 Eh Mattia Mi sa che devi scappare Perché questo qua Ancora Ma quello dopo È peggio Ciao Giuse Lui c'aveva paura Di farlo in live Sta cosa Io gliel'ho detto Ma che donato We done Stavamo pagato Forse donato Non mi lamenterei Comunque Eh no Però il problema Sai qual è È che se questo qua Non lo mettevi in mezzo Mi sa che non succedeva Il problema Ve lo spiego subito Qual è stato il problema Che probabilmente Non l'hanno trattato Proprio benissimo Però C'è Oddio Tecnicamente non è possibile Però mi sa che ha fatto Una cosa di questo tipo Perché erano messi così Però non ha senso Che si sia ammaccato di qua Però non ho idea Di come ha fatto Sinceramente Perché Cioè vedete Che si è proprio Preso una botta Cioè Ed era tutto Imballato Eh 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 No è che ha preso No è che ha preso Proprio una botta Probabilmente E infatti E infatti Qua È dal lato Dove Dove Il pacco È un po' ammaccato C'è Vedi che qua C'è un po' di botta Io non so Che botta Gli hanno dato Ma per fare Una roba del genere Eh per fare una roba del genere Devono averlo tirato Perché Cioè Non so nemmeno Questo non so nemmeno Dove ha sbattuto Perché era sotto Ma questo qua Cioè Erano uno sopra l'altro Ora Magari si è incastrato In questo No Neanche è possibile Questo è più grande Per cui è impossibile Allora Le ho state sentite Ma potresti non farmi domande Che non hanno senso Perdonami È bello Alba e tramonto L'ho appena preso È nuovo Come cazzo faccio A saperlo Se è bello Ma no Ma dall'esterno Non c'erano problemi E questo è il fatto Per cui Boh Non lo so Vediamo E che qua La cosa più divertente È che sotto Non è rovinato Posso incullarlo Per me che si vede di lato Cioè vedi che si è proprio Un po' schiantato qua Hai sbagliato Il primo test Di oggi Ho sbagliato Il primo test Eh Ha reso a chi A Mattia Cioè Mattia Lui L'impacchetta E li spedisce Cioè Il test Era la domanda Del cazzo Ma non mi sono Avrabbiato Ma Non ha senso Chiedere se una roba È bella Se è appena uscita Perché boh È nuovo Come fa Una a darti una Cioè puoi dire È bello Ma cioè puoi dire Sì le tavole Sono fighe Però È difficile Dire Tavole Tavole sono fighissime Però la storia Boh Che ne so Se uno non fa domande Del cazzo Di che si parla Di cose Non facendo domande Del cazzo Si può Non è impossibile Com'è strano Però Si è stortato Ah no Perché si è schiacciato Talmente tanto Che si è stortato Tipo È strano Boh Ciao Samuele Sono battute Vai tra E comunque Esistono domande Interessanti Del tipo Che figli disegni Che è l'artista Cos'altro ha fatto Sì Ma che Rai ho reso Ragà Come ho già detto Non l'ho ordinato Da panini L'ho ordinato In fumetteria E non posso dire Alla fumetteria Vaffanculo Se è colpa Del pacco Cioè Considerando che Mattia è qua Non è che Mattia mi spedisce La roba rotta Apposta Anzi Avendola spedita Lui La vede Prima E quindi Dovresti dirlo A quei coglioni Di BRT Comunque Abbiamo Inferno L'ultima parte Della run Di Hickman Non è che Avete sentito Provare Regatura Sulla cima Eh no no È proprio Guarda Cioè Si è proprio Schiacciato Non so che Cacchio Gli ha fatto È successo Ma si è proprio Vedi C'è proprio Questa parte qua Si è schiantata Cioè va Fa effetto Fisarmonica Non lo so Signor Fis Non sono Un fumettaro Però Cioè basterebbe Non lanciare I pacchi Letteralmente Perché questo pacco qua Vuol dire che Cioè Boh Cioè Boh Non lo so Non lo so Cioè come è staccato Probabilmente Dall'unso Questo è per Di Questo è proprio L'esempio però Da fare Sul discorso Ah Maledetta Amazon Che ti spedisce Male le cose Vedete Non cambia un cazzo Cioè Questo qua Raga Era Nel pacco Con Il pluriball Con sopra il cartone Per tenerlo più fermo Se i corrieri Si comportano Come dei lanciatori Di football Eh Se i corrieri Non sono in grado Di leggere Un numero Su un citofono E poi dicono Di non avere Incontrovato La persona Cioè Quando il corriere Ti dice No guarda Non c'era Il numero Non c'era Sul citofono Poi ti chiedi Perché Non Gli cascano Le robe di mano Probabilmente Eh Come mai Comunque Dottor Strambo Disegni incredibili Senza senso Ma veramente Senza senso Wow E poi E poi E nel senso Era impacchettato Così Dentro la Placcia Era nel sacchetto Dentro Un blocco Di fumetti Dentro Comunque Comunque Abbiamo anche Degli spillati E' uguale Samuel E' la stessa Identica edizione Cioè Sono proprio I cosi All'olandese Così Sì No Il pacco Non era Sventrato Però Aveva una Botta qua E uno Pensa Vabbè Avrà preso Una bottarella No no Mi sa che Ha preso Proprio Una bella Bottona Perché Ebbene Ebbene Sì Gli spillati Di FQ Numero 2 3 E 4 Che mi Mancavano E almeno Mi leggo La serie Bellissime Le copertine La gente Non è Particolarmente Emozionata Da No Con questo Li ho recuperati Tutti Forse Parte L'ultimo L'11 Non ho Forse No L'11 Ce l'ho Ma non mi Ricordo C'è qualcosa Che mi Manca Ma non mi Ricordo Cos'è No Gli spillati Sono sani Fino a un certo Punto Guarda Perché in realtà Questo qua Non è così sano Però vabbè Me ne frega un cazzo Dello spillato Chi se ne frega Però Questo qua Era sempre In quel punto lì E io ribadisco Non so che cazzo È successo Ma Bene Sì Sì Mascevala Milano Ci saranno 700 Corrieri Sai qual è Il problema È che probabilmente Il pacco è uscito Una volta Poi è tornato E poi è riuscito E quindi aumenta Il rischio Che si spacchi Se davvero è uscito Cosa di cui Non sono ultimo Non essere così certo Però Io lo ribadisco Non abbiamo trovato Il numero Hanno fatto credere Mentre cercava Il citofono Può essere Può essere Non trovandolo Si è avrabbiato Di aver fatto Un pugno al pacco Probabilmente Ma Vediamo un po' Cosa abbiamo ancora Questo è in condizioni buone Direi Non sembra avere quasi niente Direi nulla Abbiamo I volumi Due E tre Di Yawara A questo punto Presumo che Yawara 3 Me l'abbia mandato qualcuno Non mi ricordo Non mi ricordo più chi era Non so se c'è scritto Non c'è scritto Oh Gemini Palesati Grazie del fumetto Lo leggerò con gioia Questi no Questi fortunatamente E' hanno assolutamente Non hanno preso botte A me viene il dubbio Che strano Chissà che Adesso Misteri della vita Grazie O Gemini Per il tuo Yawara Vabbè È Yawara Devo ancora leggere Il primo In realtà Però Ormai Li guardo In ogni punto Per vedere Se c'è Una qualche E per ultimo Abbiamo Sperando che sia a posto Siano cose strane Sembrerebbe di no Sembrerebbe abbastanza a posto Vabbè È più piccolo Del grande tesoro di Marvel Absolute Comunque ribadisco Non è che non fosse stato imballato Vediamo se è a posto Non ha preso botte strane Direi di no Prometea 2 Di Alan Moore E J.H. Williams III Un fumettone Molto tanto particolare Prometea Eh ma io non ce l'ho Quella Per cui Io ho solo la versione Non ce l'ho nemmeno tutto Perché non ho il finale Io ho soltanto la versione In brossuratini Pubblicata a episodi E quindi ho detto No vabbè Questo me lo piglio Anche perché Non ce l'ho tutta Ribadisco Molto bello Poi per carità Io non è che Mi andrebbero bene Anche gli Omnibus Però Fanno gli Absolute Vada per gli Absolute E dovrebbe essere Il secondo di 3 Se non ricordo male Non so fin dove Era arrivato Dovrei guardare Fin dove erano arrivati Gli spillati I brossuratini Sinceramente Eh no Ma l'imballaggio Era a posto Però sai Se il correre lo lancia Poi ma io non so nemmeno Come ha fatto Perché Cioè la cosa Strana È che adesso Io non so dove era No Guarda Perché Sopra c'era Yawara Sotto c'era questo Con questi E c'era tipo questo qua Per cui non lo so Esattamente Cioè Mi sa che era così E poi Forse c'era sopra questo No no Non è possibile Perché così Non credo sia possibile Beh Era così Non so dove era Sinceramente Non so dove era Quello di Sebritut Che però non ha segni Eh no Era sopra Sebritut Vero? Cioè era così Era così? O questo era sotto? Oppure questo era sotto anche Potrebbe anche essere così Sicuramente questo non era in mezzo Perché Ma è strano Non so come ha fatto a rompersi così Cioè è così probabilmente Cioè Ha preso una botta qua Talmente forte Che ha fatto tutto sto là È questa cosa qua Che non ho capito Come si è fatto No Magari ha fatto così Non ho idea Umberto Sì resta il fatto Che il problema È ordinare i vari formati insieme Che sicuramente Non aiuta Sembri Tut Strange E Warren No Questi qui erano sopra Scusami eh Gli ho visti Che erano sopra Non ho tirato fuori il pacco Proprio perché c'erano Questi due sopra così Ok E questi erano per forza sopra Perché li vedevo dal pacco Cioè Erano così Quindi veramente E a Warren Se è Brito Strange E raga non ho visto Il Nat Siete tutti capre superstiziose Ok Ciao watch Ciao Grazie Dario per la sub Però davvero Non ho capito Che cazzo è successo Cioè Boh Naturalmente ha preso Una botta talmente forte Che si è Boh No Questa era sopra in realtà Perché questo qua Era sopra questo E questa era sotto Era tipo così Ok Eh vabbè Però se qualcuno interessa È doppiamente girato Possiamo fare Dello studio Dei cartonati panini Vedete C'ha Una sottoparte È ancora colorata Sotto qua Posso stirarlo Lo stiro Questo lo incollo Lo tiro Mettici lo scotch Esatto No ma è strano Perché Era dentro Comunque Per quello Anche questo Cioè Non è facile Dare una botta così È una bella botta Questa Non è una bottina Che dici Ha preso un colpettino All'angolo Chi se ne frega Ha proprio preso Una bella botta qua È rientrata fino qua Guardate C'è un segno Qua Cioè C'è un segno Fino qua Che vuole questo Stasera Questo inferno Mettoli Quindi stai dando La colpa A Mattia Spettinato Che cavode Uomo cavodele Mattia Infingardo Che mi spedisce Le robe rotte Dannati Non Mattia I suoi Dannati dipendenti Di Mattia Licenziali tutti Io qua Appelati fumetti Quando uno sbaglia A pubblicare il video Viene subito licenziato Il montatore vecchio Non c'è più Ne abbiamo uno nuovo Lo paghiamo In ciambelle E guai Se si lamenta Se si lamenta Ne prendiamo un altro Evviva Dovreste pagarmi Per questa informazione Ti pagheremo Si chiama Gilberto È proprio lui Anche i vecchi mod Tutti i licenziati È rimasto solo Lo zio Dario Perché lo zio Dario È quello bravo Se paghi in ciambelle Cambio la partita Iva subito Una ciambella Al mese Te la fai bastare Che se no Lo faccio fare Il mio cugino Che con 5.000 lire Lo fa meglio Figa E questa sera Bunga bunga Abbiamo una storia Bella da raccontare Nel video acquisti Insulteremo Coso Mi distorce dal bunga bunga Viva il bunga bunga E se non lavori Ti paghiamo in ciambarutte Esatto No Insultiamo Bartolini Che ha probabilmente Lanciato il pacco Non lo so E complimenti A Bartolini Per aver consegnato Un pacco Tutto spaccato Vabbè dai 2 su 2 su Allora 1, 2, 3 4, 5, 6 6 su 8 Sono a posto No 6 su 9 Ma in realtà Sono rovinati 3 cose 6 su 9 Troppa milanesità In questa live Evviva E più che milanesità È Berlusconi Non è milanese Cioè è proprio E vai Che bello Non è nemmeno milanese È berlusconese Figa Anche perché Berlusconi Stava lì Stava fuori No Appunto La brianza Che schifo Comunque Sono molto contento Di avere Inferno Inferno Molto bello Gramma i disegni Tra l'altro Inferno Perché Accument Unlocked Quale? Cos'è questa Cos'è questa Cosa di pagine Quasi chiara Cioè Strana Però Caselli Voleva scritto Caselli Cioè Disegni Stefano Caselli Voleva scritto Stefano Caselli Molto italiano X-Men Dico Vabbè Questo è l'ultimo E dopo questo Boh Uh Tutte le variant Anche Che figo Belle le variant Di Jeff Dekel Oscar Viega Pitch Momoko Eh ma sono tutte belle In realtà Anche questa Questa è un po' Vaccona Variant Vaccona Un po' Strana Anche Cioè Questo Questo Posso dire Che questa Coscia qua La vedo Sbagliata Non è molto Bello Questo Risetto Eh no Allora Spegnete il Coscia Guardate bene L'anatomia È strana Sì ma è strana Cioè Non ha senso Come cazzo è messa Non c'ha l'anca Questa è giusta Più o meno Cioè Se consideri che il fianco Fa così Ci sta Ma questa qua È strana Per come viene giù In questo modo Eh sì È quella sotto Che è proprio Sballata Art Germ In realtà non è sempre A fare disegni E vede Perché no Quello è bianca Perché sta Si sta trasformando Vedi che si sta Trasformando Si sta trasformando Un po' in stile film Degli X-Men Degli anni 90 Che lo faceva A pezzi No Faceva E quindi fa Però la gamba sotto qua È proprio strana La posizione Non ha proprio senso Che per carità È difficile Però Prendi una foto Cioè Prendi un tuo amico Gli fai mettere Le calze a rete Lo fai mettere così E gli fai la foto E poi da quella Per la posizione Almeno Ti regoli Perché fare una posizione Così a mente È molto difficile Certo Potevo dire fidanzata Ma Cioè Un discorso è fare una roba così Un discorso è fare una roba così Poi Carmen Carnero Non ha mai visto mistica Credo Perché che cacchio di faccia Gli ha fatto C'è il naso a patata Mistica Sì Cheval Si discute Delle scelte grafiche Degli autori Mark Brooks Questa variant doppia Molto bella Va bene Oppure la fai semplice La fai molto semplice Fai così Ma sono variant Meld Sono le variant americane In America Ogni volume che esce Almeno 3, 4, 5 variant Se è un minimo Un volume importante E infatti c'è Tipo Inferno 1 Inferno 3 Ne aveva 2 Di variante Di PC Momoku Addirittura A meno che non abbiano sbagliato E questo fosse 1, 2 Sputtaniamo panini? Inferno 3 No effettivamente Non c'è nell'1 Oddio Ha 26 variant Vediamo se c'è nella 2 Quando vi lamentate Delle variant italiane Ecco pensate Agli Stati Uniti 26 26 Ah è questo Il mio destino quotidiano Me lo sono preso Io vi auguro buonasera Che palle Perché mi devi telefonare Non possiamo comunicare via messaggi Io odio comunicare via test Cioè mi piace tanto comunicare via testo Mi mette proprio ansia Dover parlare al telefono Sì 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 Per carità Però sotto a 26 Sono comunque tante Anche se sono 3 diverse Cioè nel senso Qui sono 14 Però sono A parte che non ci sono tutte Manca la 3 Manca la 8 Tipo quella lì Di cosa? Non c'è Quella di Ah no è questa Quindi non c'è Quell'altra Quella con Mystica E Bu Non è questa Non è questa Ah sì Sono due Non è due Ah perché questa qui è Stormbreakers Variant Che è sempre di più Non so perché è Stormbreakers Variant Ma ok Ricordo che grazie a me Adesso ho scoperto quanto preferire Chattare con la stessa Amazon Mi piace anche parlare con loro Eh Che fatica Che poi c'è tutta una riga anche qua Vedete Qua È tutto schiacciato Vedete che qua Fino qua C'è proprio C'è tipo una riga Una ruga Sulla carta Però è veramente bello Che spreco Che spreco E tristezza Spreco e tristezza Spreco e tristezza Bravo Molto spreco E tristezza Ora se non faccio pure cadere la roba È meglio Mettiamola così Ma non si rompe Ecco E Ma sì ma È brutto parlare con le persone dal vivo Quando puoi parlare Quando puoi non parlargli Ma sai quanto è bello Cioè Non parlare alla gente Quando sei libero di non parlarci È il piacere assoluto La comunicazione È una cosa brutta Il mio spreco è Silver Surfer Black Con quella storia Incagabile Vabbè Alla fine Chi se ne frega Sì non era al massimo La storia Però era talmente bello Ma questo qua Secondo me È forse ancora meglio È più È più strano Però sembra più dettagliato Di Silver Surfer Black Cioè Sembra molto più Ancora più Come possiamo definirlo Astratto Però è tanto particolare Ci sembra ancora più particolare No È non tanto unire Ma proprio a livello proprio grafico Cioè È diverso Ma italiano francese Cioè italiano inglese E' proprio francese È proprio figo Però Ah questo Ok Eeeh Comincio ieri Non ne vorresti una da mur Ma non ci spenderei I soldi Che sicuramente chiede Sì Vorrei La vorrei Un bel quadro Su tutta parete Beh sì Ma non ho i soldi Per spenderceli Cioè il concetto è Se devo spendere 800 euro Per farmi fare una commission Grande così Non mi viene spontaneo Bellissimo È A parte che non li ho Ma Avendoli Che palle però Comunque Hyped Hyped Ci dice che è un capolavoro artistico Ce lo dice Hyped E io ci credo Sai che per assurdo Se ti arriva da Amazon È più facile Perché magari Il concetto ragazzi Il problema qual è È che se ordini una roba E ti mettono Il pacchettino piccolo Se il pacchetto è giusto Il problema è che Se spedisci tanta roba Di formati diversi Inevitabilmente Si muovono le cose E se il corriere Lo lancia Non lo so Sarà Non lo so Cos'è Hyped Art Industrial Post Time Non lo so Hyped Art Hyped Comics The most comic review Everywhere Every week And recover movies Sarà questo Sarà questo qua È una pagina di Instagram No forse no C'è 3000 follower Magari è famoso Sul web L'iPhone 15 Pro Dentro una busta Ottimo È arrivato bene Accademia Italiana Personal Trainer Non credo Io non lo so Non credo sia questa roba qua Magari è È il sito di un amico Di Rizzo Anche qui Non di Rizzo Perdono Peruzzi Anche questo È un amico inglese Ah scusate Non vi state perdendo molto Bello Forse non è questo Scusatemi Hyped Doctor Strange Com'è in inglese Down Non lo so Twilight Non lo so Fall Sunrise Fall Sunrise Mi sa che è davvero Questa Ma è tipo una rivista Ci scrive della gente Magari è famosa In America Che ne so Magari su Facebook Ha 7000 milioni Di follower C'è il podcast Magari il podcast È famosissimo Non si apre Beh 259 episodi Però Eh Però vedi Come dicevamo Purtroppo Anche se ti mettono la roba In un pacco Con un sacco di imballo Beh Non è che c'era poco Adesso C'era il coso Ed era scocciato attorno Dentro il pacco Per cui Doppio passaggio Di coso Il problema è che Se prende una botta Prende una botta Ci puoi mettere Quello che vuoi Cioè il problema È che è arrivato Così Cioè Qua Ci arriva questa bottina qua E io Non lo so Esattamente come è andata Di qua Era sanissimo Di qua Ci aveva questo Questo ringrinsamento Ma non lo vedete Ci aveva questo Ringrinsamento Vai in Giappone Anche quest'anno Se me lo paghi tu Sì Non si mette a fuoco E niente Non vuole essere a fuoco Solo Marvel mette a fuoco Gli piace un sacco Vedete È arrivato Con questo ringrinsamento Quindi io non so Che cazzo di botta Aveva preso Io ho pensato Boh Si sarà appoggiato qualcosa No no Era proprio uno sfondamento Sbuff Costato così tanto Eh beh Non costa poco Andare in Giappone Insomma Tre pippi Li sono costati Credo Non mi ricordo Adesso Sì 3000 euro Più o meno Che depressione Mi mette Mi mette tristezza Questo 24 euro Comunque Eh Sì 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 I corrieri amano i pacchi E va bene Io direi che con questo Vi saluto E vado a mangiare Con tristezza Qualcosa è caduto Non so cosa Credo il modem Da chi vi mando? Vi mando da Malvaisio Malvassio Malvassio A cotoletta mangio Cosa vuoi che mangi? A cotoletta Vi mando da Malvaisio E salutatemelo E chiedetemi se i suoi fumetti Sono arrivati intere No non è vero Però niente Ciao Aspetta che guardo Se davvero è live Così non vi faccio Un vide a vuoto Vediamo No c'è davvero Non la posso Ciao